ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono federica spero che l'audio sia decente la prima volta che registro col microfono sto cercando di aumentare la qualità video ancora ci vuole del tempo però piano piano ce la faremo vi ringrazio per essere qui oggi parliamo della nuova uscita di kiko la collezione beauty roar è una collezione che finalmente ha un omaggio carino acquistando tre prodotti della collezione c'è in omaggio questo beauty carinissimo che anche in vendita 9 euro e 90 ed è veramente bello perché ha tre o quattro scomparti con le zip leggermente trasparente e secondo me è anche l'ideale da portarsi al mare quest'estate per vedere un po' cosa c'è dentro la borsettina mi è piaciuta davvero tanto questo regalo vi porto velocemente in negozio ci facciamo un giro vediamo qualche swatch e poi parliamo più nel dettaglio della collezione allora questo è un po' lo schema della collezione iniziamo con questi due in uno cream stilo che da una parte hanno tipo un balsamo labbra e dall'altra parte sembra un balsamo trasparente poi abbiamo queste matite per le sopracciglia il beauty che è trasparente che vedremo dopo che mi è stato appunto regalato anzi abbiamo già visto la bro il bro gel due mascara uno blu uno nero poi abbiamo degli eyeliner in quattro colorazioni e degli ombretti metal tre tinte come base viso e due bronzer in crema un primer e un kit di accessori da 11 euro e 99 con i pen per struccare uno scrunch e una pochette poi c'è una maschera viso un siero viso una crema viso due palette con all'interno blush illuminante bronzer poi c'è uno lover tipo illuminante in gel che rimane però bagnato e tre palette che hanno all'interno uno shimmer multi riflesso altri saten e qualche matte e finiamo con il ph colorful lip balm nel andiamo nel preciso questo è lo swatch per quanto riguarda l'illuminante all over qui ci sono i due swatch delle palette a sinistra quella più chiara a destra quella più scura come possiamo notare la bronzer chiaro è veramente chiarissimo questi sono i due bronzer invece a cushion che rimangono un pochino sheer queste sono le quattro tonalità dei balm colorati e queste sono le sei però purtroppo una non era disponibile tonalità dei rossetti ph reagenti queste sono le quattro colorazioni degli ombretti metal swatchati sono veramente bellissime mi piace tantissimo il lilla che ha dei riflessi azzurri e concludiamo con i quattro eyeliner leggiamo velocemente esalta la tua bellezza senza rinunciare alla tua unicità con beauty roar la nuova collezione kiko milano una linea completa di prodotti makeup skincare accessori multitasking texture universali tra virgolette che si adattano alle diverse carnagioni per donare un risultato su misura finish diversi un'ampia gamma di colori intensi con cui creare i look che più ti rappresentano un packaging minimal ed elegante che rappresenta la bellezza universale ok non c'è scritto più di tanto come potete notare ho già applicato fondotinta in quanto abbiamo tre tonalità di tinted tipo bb cream che si mette sulla mano è bianca poi si spaccano le micro perle e rilascia il colore ma anche la tonalità più chiara era arancione e quindi non l'ho comprata per andare poi a buttarla perché non avrebbe avuto senso c'è proprio già la tonalità più chiara scura era scura era arancione correttori non ce ne sono e ciprie se non ricordo male nemmeno quindi partiamo con prodotti viso per andare a scolpire blush illuminante occhi e labbra apriamo la nostra pochette ok ha una zip grande poi all'interno a 1 2 3 4 scomparti ho preso una lip tint anche lip marker numero 107 devo testarla ancora un po meglio perché non mi ha convinta più di tanto abbiamo tre prodotti i colori della collezione sono appunto sull'arancio e sul nude direi di partire con la palette occhi io ho scelto la palette 01 so happy i pack sono veramente basic all'interno le palette hanno lo specchietto e hanno una colorazione veramente bella shimmer poi hanno dei colori saten e 1 2 mat a seconda della palette io ho scelto questa un po più basic diciamo neutra per tutti i giorni allora questo qui è un grigio antracite quasi nero devo andare a ed è l'unica colorazione mat della palette perché gli altri sono tutti saten e questo qui è lo shimmer che sarà protagonista vado a stendere il correttore che si è infilato bellamente nella piega della mia palpebra e vediamo un po quello che mi viene in mente di fare con questa palette volevo fare qualcosa di grafico però meglio rimanere sul semplice vado a prendere il nero e con un pennellino piccolo ragazze io sto utilizzando tantissimo questi pennelli che mi ha inviato ref ci sono gli sconti del 40 e 50 per cento io vi consiglio vivamente il pennello numero 3 e per le polveri mi piace tantissimo lo 0 5 mentre per sfumare piccole aree ho il 14 e il 15 sono i quattro pennelli che utilizzo di più ne ho anche altri io vi lascio il link in info box se volete dare un'occhiata al sito costano un po ma sono i migliori pennelli mai provati non è una di assolutamente quindi vado a disegnare praticamente questo questa specie di eyeliner sul mio occhio e mi spingo verso l'interno a questo punto faccio una cosa azzardata prendo questo shimmer diciamo satinato tortora e provo andarlo a sfumare si è proprio shimmer ok generalmente non faccio questo passaggio ma lo faccio sempre con un ombretto matt per oggi voglio provarci anche questa diciamo che è una palette sono palette un po particolari il prezzo intorno alle 18 euro e la palette è un po piccolina provo andare a prendere un po di rosa sono molto belli perché sono veramente sembrano quasi illuminanti per come sono satin non sono i classici ombretti satin ma non riesco andare a fare appunto con questi ombretti luminosi quello che volevo fare quindi prendo un po di nero e vediamo di arrangiare in qualche modo questo makeup cerco di sfumare quanto più possibile il nero e vado un po a trascinarlo nella piega per riuscire a dare un po di tridimensionalità look se no i shimmer sono belli ma molto chiari ok diciamo che sto arrangiando più che altro perché appunto non ci sono transizioni è tutto shimmer vado a prendere poi con il dito il colore diciamo più scintillante e lo tampono nella parte iniziale dell'occhio è bellissimo è come quello che abbiamo visto forse nella beauty essential non mi ricordo comunque nelle ultime collezioni è veramente pieno di micro glitter non segna la palpebra bellissimo però non è un secondo me è una palette completa cioè manca proprio almeno una tonalità di transizione dovevano metterla molto bello questo colore vado a scurire ancora un po la parte finale porto anche sotto c'è fall out perché comunque ho applicato con il pennellino lo shimmer andrò ad applicare un casual questo è quello di astra 24 ore vado all'interno dell'occhio tiro su a modi eyeliner nell'angolo e riporto verso l'interno con il pennellino di prima vado a sfumarlo vado a sfumare il nero nella parte inferiore un po meglio ok per il momento mi fermo qui e faccio anche l'altro occhio e poi andiamo avanti ho applicato il mascara fatto anche l'altro occhio mi sembra un morticia adams ma adesso andiamo a dare tridimensionalità e calore a questo viso con la beauty roar flawless look face palette nella tonalità 02 my lovely futures futures anche lei molto basic davanti è arancione dietro è bianca questa è la tonalità più scura ho fatto anche se sembra tipo scurissima ho fatto gli swatches e mi sembrava la più adatta però vi voglio dire anche una cosa per quanto riguarda i bronzer in stile charlotte tilbury chi ha fatto ci sono due tonalità e sono dei bronzer sheer tipo quelli di iconic london per intenderci non ultra pigmentati ma con una base tipo idratante sheer quindi secondo me se vi piace un contour non troppo definito non troppo calcato quelli sono perfetti queste palettine mi hanno ispirato perché mi sembravano abbastanza cremosi e le texture mi piacevano parecchio allo specchietto queste sono le tre tonalità della palette 2 e vado piano piano col pennello che vi dicevo prima adesso però aspettate 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 perché prima voglio fare una cosa con il pennello da sfumatura vado a prendere un pochino di bronzer e vado ad applicarlo qui nella tonalità nella tonalità nella parte più alta della transizione per dargli un leggero tocco di marroncino perché la vedo veramente fredda glaciale questa questo trucco occhi di qua ho messo più shimmer perché non si vedeva e non sapevo cosa volevo fare esattamente però più o meno insomma da questo lato il trucco è venuto decisamente meglio procediamo quindi vado a prendere il mio bronzer che è leggermente luminoso e sembra scurissimo ma in realtà poi sbocciandole un negozio non non è così scuro si sfuma molto bene si riesce a intensificare pian piano merito anche del pennello ad un po' anche sul naso così oggi niente contour direi che sto prendendo un colore un po' più vivo è leggermente luminoso ha proprio dei micro micro paiettine non sono glitter sono proprio piccole piccole e fa sì che non risulti completamente matte ma direi più radioso non è propriamente luminoso la palettina viso è comoda anche perché è piccola voglio andare a prelevare il blush che visto così mi ispira tantissimo infatti è una rosa bello è un po' malva ma non troppo non troppo spento non troppo barbie è proprio fine come colore meraviglioso la tonalità del blush è bellissima anche il bronzer c'è un po' aranciato è un po' caldo rispetto a come appunto nella cialda è molto molto più chiaro sul viso è come se fosse non super iper mega pigmentato ecco mi piace molto e vado a finire con questo illuminante che è un po' forse scuro no è un po' doratino però direi che non è proprio scuro è delicato come illuminante non è super mega però a me troppo super mega non mi fa impazzire diciamo che possiamo andare a intensificarlo un po' come ci piace diciamo che la palette viso mi ha sicuramente soddisfatto molto di più rispetto a quella occhi quella occhi non è completa quindi se piacciono le tonalità sì perché comunque le texture sono belle anche il nero si sfuma bene bello pigmentato il grigio scuro insomma quello che sia devo dire si lavora piuttosto bene gli shimmer sono belli quelli statinati effetto bagnato quello che ho messo qui super brillantinato bellissimo però manca appunto una transizione che dovete aggiungere palette viso mi è piaciuta mi piace abbastanza calda radiosa naturale bella e andiamo a terminare il nostro makeup con prodotto labbra ho scelto il ph matte liquid lip color della collezione beauty roar nella colorazione 01 me myself e brown è la tonalità più chiara io li ho sbocciati sulla mano e non ho capito questo ph reagente sinceramente perché mi sembrano semplicemente tinte labbra però adesso lo vediamo insieme applicandola questa è la colorazione quindi un nude cioè non ho capito dov'è reagente col ph raga sinceramente si reagente diventa più scuro e più caldo dov'è il brown dov'è il brown allora sbocciato sulla mano era meraviglioso era un nude marroncino bello applicato sulle labbra a voi piacerà probabilmente non ci azzecca molto col blush però il blush vedete poi vira anche il blush un po sarà il bronzer diventa questa tonalità aranciata formula molto bella perché è sottile iper pigmentata per adesso è idratante nel senso che sembra un rossetto matta lunga tenuta però evidentemente asciuga lentamente adesso aspettiamo qualche minuto e vi faccio sapere vado a sciogliere i capelli vi faccio sapere sul rossetto allora terrò su il rossetto nelle prossime ore mentre andrò ad editare il video sinceramente è demi semi asciutto non è completamente asciutto però mi dà l'idea di un rossetto matta comunque con una buona tenuta nell'insieme nel complesso la formula mi piace è sottile bella pigmentata confortevole sulle labbra e mi dà appunto l'idea di non essere iper mega asciutto però nel contempo cioè vedete comunque un po' trasferisce però è quel trasferimento graduale quindi secondo me rimane l'unica cosa è appunto che il colore non rientra tanto nelle mie corde lo vedo troppo troppo arancio e col makeup occhi freddo insomma si prendono un po' a cazzotti forse non lo so ragazzi questo è quello che penso io dei prodotti che ho provato di questa collezione è proprio vellutato perché poi tocco qui e vedete cioè come se si andasse poi ad asciugare questa è la mia umilissima recensione fatemi sapere se avete già provato qualcosa di questa collezione e cosa avete visto e cosa vi ispira vi lascio il link dei prodotti che ho provato in infobox insieme al link dei pennelli migliori che ho provato fino ad oggi vi ringrazio per essere state in mia compagnia come sempre vi mando un bacio gigante ci vediamo al prossimo video da Federica la donna qualunque